Il Questo è 3 Donne e 4 3, 4, 8 Tre donne e 4 Buongiorno Questa è il numero di tipo Elena Buongiorno Buongiorno Si fai Buongiorno Budi E' reale. Ci piace lo suono per scattare. E' uno e tre, quattro. Io vado. Quello che non c'è. 5 giornalisti. C'è un detto? Vada. Allora preparati la prossima partenza IL. Sì. 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 È la prossima partenza IL. C'è una seconda partenza IL. Sì. 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 Attenzione, attenzione ragazzi, attenzione alla potenza, guardate quanti attrezzi che stanno caraggando in questa istante, veramente un numero importante, voi sentite al barcorto, mi raccomando, tantissimi, I e L sulla linea di partenza, I e L sulla linea di partenza, prima no, e comunque dopo giovedì, io le faccio degli altri mestieri, sui taccacchi e delle neve, sui miei altri farei una bella fai, io le faccio meno di te, è solo un po' stracchi, però Andrea tiene lì bene così dopo lo passa con me, se ne ha fatto io e mio amico.